ecco se qualcuno vuole già porre domande sulla chat poi io aspetto un attimo a dare la risposta così diamo l'opportunità a tutti quelli che si sono collegati di sentire poi come sempre c'è la registrazione sia sul portale della didattica sia poi su youtube la mettiamo come sempre come sapete spero sappiate insomma se consultate il sito del corso e diciamo slack e tutti questi modi di comunicazione che abbiamo sono state pubblicate le regole d'esame per cui vi invito se non l'avete già fatto a darci un'occhiata anche ora comunque diciamo che andiamo a leggerne insieme tra le varie cose che faremo oggi così se ci sono dubbi potete chiedere ok siamo una decina grazie intanto che qualcuno scrive delle domande e giustamente delle domande anche sulle lezioni come è stato scritto aspettiamo ancora un istante intanto copio la domanda in maniera che sia visibile soprattutto nella registrazione ok la condivisione dovrebbe esserci di nuovo sono le 10.03 direi possiamo iniziare è una domanda sull'ultima lezione l'origin viene settata dal web server che carica l'index html e normalmente tutte le fetch vengono eseguite sull'origin no dunque allora l'origin non viene settata dal server web l'origin è impostata dal browser quindi il browser al browser qualcuno dice di caricare la pagina iniziale quindi ecco noi apriamo il nostro browser e scriviamo localhost 3000 piuttosto che www.google.com e così via bene nel momento in cui c'è uno script che fa una fetch di un qualche cosa diciamo una qualsiasi risorsa web l'origin è impostata dal browser dal browser non dal server web all'urla dal quale è stato scaricato scaricata la pagina che viene correntemente visualizzata e che fa girare lo script che sta facendo la richiesta quindi se noi abbiamo caricato da localhost 3000 ci sarà scritto http localhost 3000 se abbiamo caricato da google.com ci sarà scritto http google.com questa origin viene ricevuta negli header di richiesta sul secondo server web e il server web prende atto di questa origin semplicemente e da con questo header la lista degli origin consentiti e poi è il browser che decide se passare la risposta o no sulla base del fatto che l'origin che ha inviato corrisponda a quello che viene diciamo dato come risposta dal server web quindi è un meccanismo sostanzialmente che ci consente di lato browser lato browser capire se dobbiamo dare la risposta al diciamo allo script che utilizza questo secondo server web su cui tipicamente appunto ci stanno api o meccanismi di questo tipo che forniscono informazioni quindi non confondiamo la parte server e la parte client questo è fatto per proteggere diciamo l'utente generico che usa un browser web e va su una pagina che come sempre in questi cioè praticamente sempre oramai in questi anni carica degli script javascript che vogliono andare ad accedere a delle diciamo risorse in rete su altri server web quindi questi altri server web dicono se l'accesso a questa da parte di questa pagina è consentito o no e l'enforcing lo fa il client cioè il browser cioè il browser che decide se passare la risposta allo script oppure no quindi poi arriviamo all'esame e in merito a course non mi è ben chiaro un concetto in caso in cui il course non fosse settato e in una response http venisse fatta una redirection questa sarebbe bloccata dunque c'è un parametro nelle richieste che diciamo è possibile fare col browser sulla fetch o comunque sulle librerie che usate che dice se volete seguire la redirection o no quindi bisogna bisogna onestamente andare a vedere che cosa prevede questo parametro e qual è il comportamento non so dirla così a bruciapelo se diciamo se non c'è il setting e la risposta a un redirection se il browser la seguono pur non essendoci settato l'origin il fatto che sia settato l'origin o no lo decidiamo noi nel senso che c'è un parametro di nuovo nella fetch che ci dice se vogliamo settare diciamo l'origin in maniera che appunto usiamo questo meccanismo di default è impostato a same policy nel senso che non andremo a fare richieste al di fuori diciamo del nostro del nostro origin quindi del server dal quale abbiamo caricato la nostra pagina web quindi il server web che decide l'accesso e che protegge il browser si no diciamo protegge il browser è una parola non del tutto corretta il server web che decide l'accesso si che protegge il browser diciamo che i browser hanno deciso di seguire questo standard che è uno standard tra l'altro del adesso qui forse non l'ho detto ma c'è nel link questa è la specifica di html5 il living standard quindi è uno standard diciamo che viene che è lo standard corrente per fare questo tipo di richieste seguono queste specifiche di conseguenza si sono dati la regola di seguire lo standard e lo standard dice che nel momento in cui abbiamo una risposta da un server web che ci dice che l'origin quindi diciamo il dominio port eccetera da cui abbiamo fatto la richiesta non è consentito il browser non passa la risposta allo script questo per evitare appunto che ci sia qualcuno che si crea il suo sito web ci mette lo script e poi va a fare operazioni su altri siti appunto API API della banca e va a fare operazioni per conto vostro nel momento in cui voi malauguratamente foste autenticati perché nel frattempo avevate un altro tab un'altra cosa aperta che aveva comunque l'identificativo necessario per fare l'autenticazione questo non è che protegge da tutti i casi possibili non è che sistema tutta la sicurezza necessaria da implementare in ambito web però diciamo che è un meccanismo che ci dà almeno un po' di controllo su che cosa è possibile diciamo consentire o no in termini di accesso da parte di siti terzi alle nostre API quindi corse lavora solo su corse lavora solo su img, frame, script o tutti quegli elementi html che richiedono risorse da potenzialmente altri server sì fondamentalmente sì se le serviamo noi dal nostro sito l'utente ha deciso di accedere dal nostro sito e quindi è chiaro che desidera usarlo e quindi non c'è nessun rischio da questo punto di vista comunque diciamo che prego nel nostro corso l'obiettivo non è andare a diciamo sviscerare tutte le problematiche di sicurezza e di diciamo robustezza inteso nel senso di sicurezza dell'applicazione web per diciamo andare a capire tutte le potenziali problematiche che possono verificarsi in questo contesto diciamo bisogna approfondire la materia in maniera appunto diversa bisogna dedicare molto più tempo ci sono i corsi di sicurezza un corso di sicurezza base che fate nella laura magistrale sicuramente almeno un minimo di queste cose ne parla questo è uno dei pezzi e l'abbiamo visto per la verità solo ed esclusivamente perché noi abbiamo il problema di avere il server di sviluppo di react su un server web con il create react app e poi ci facciamo le nostre api e abbiamo un secondo server se non avessimo avuto questo problema non ne avremmo neanche parlato però ci sembrava giusto accennare al fatto che appunto c'è questa questione da risolvere che poi peraltro ci può portare dei vantaggi scalabilità e così via perché nel momento in cui distribuiamo il carico su più server eccetera diciamo questo è anche un vantaggio nel momento in cui l'applicazione viene poi messa in campo o come dicevamo nelle slide in produzione che è il termine più tecnico ok delle tre soluzioni è quella course la più usata a dire la verità arriviamo all'esame noi diremmo onestamente per il nostro scopo nel corso diciamo per il progetto finale eccetera così intanto ci colleghiamo anche l'esame e direi di evitare di usarla perché appunto c'è da configurare in più bisogna stare attenti di non configurarla male anche se diciamo nell'ambiente di sviluppo vabbè possiamo permetterci di consentire tutto e così via noi suggeriamo delle tre soluzioni quella del proxy che è la cosa più semplice aggiungete una riga fate attenzione solo ai nomi che date per esempio le API le mettete sotto slash API che vuol dire che poi nel vostro server web le root si chiameranno slash API slash qualcosa slash course slash thumb slash task e avete risolto vostro problema è chiaro che nel momento in cui ci servono un API di terze parti dobbiamo un attimo capire come è possibile gestirla se vogliamo usare server web direttamente dal browser bisognerà che prima di tutto questa API di terze parti ce lo consenta e quindi avrà il suo corso impostato correttamente però in realtà il server web è stato fatto per quell'API da qualcun altro non ha più un nostro problema e noi dobbiamo solo verificare che si possa accedere e fare la richiesta correttamente quindi dicendo che è una richiesta course però in generale se usiamo un API di terze parti magari leggiamo solo e quindi non c'è neanche la criticità di andare a fare operazioni diciamo di scrittura e così via quindi solo leggere bisogna solo fare attenzione di fare la richiesta in maniera che venga caricata dal browser quindi dire che è una richiesta corso vedrà l'header di accept che dice che va bene qualsiasi origin e via quindi diciamo che per sviluppare per i nostri progetti noi consigliamo l'approccio quello proxy scriviamo una riga in più proxy due punti localhost 3001 fine diamo un nome ragionevole alla root barra API fine potete anche usare la soluzione course però bisogna mettersi lì configurare il course appunto per per il vostro server web che fornisce l'API e in più nell'applicazione web dovete usare gli url assoluti quindi sempre scrive http localhost 3001 eccetera mentre invece se avete il proxy una volta sistemato il proxy poi potete spostare tutto e non cambiate una riga nella vostra applicazione web ok veniamo alla domanda sull'esame poi ovviamente possiamo tornare su tutto domanda sullo svolgimento dell'esame all'interno del codice che consegneremo è consentito aggiungere commenti che spiegano il codice sicuramente sarebbe utile per spiegare il funzionamento del codice a lei ma non vorrei fosse reputato come suggerimento per l'orale no 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 non c'è nessun problema io direi che il codice va benissimo nel senso cioè non è che sia un il codice scusate il commento non è che è un suggerimento intanto noi non è che chiediamo diciamo alla riga x cosa succede cioè si nel senso se sta facendo una cosa strana si però ci interessa principalmente diciamo come come ha organizzato il progetto diciamo la gerarchia dei componenti perché ha fatto in una maniera piuttosto che un'altra è chiaro che sulle istruzioni abbiamo scritto che uno deve essere in grado di saper spiegare diciamo tutto il codice ma diciamo voglio dire se uno passa una proprietà in una maniera un po' strana oppure passa un handler eccetera almeno capire diciamo saper spiegare perché ha fatto così a noi in realtà più che diciamo dire ma quella è una proprietà no qui passo una proprietà sì questo lo vediamo anche noi dal codice no ma perché è fatta così cioè da dove arriva questa proprietà no cioè tanto non sono tutte cose che uno può scrivere nei commenti quindi va bene mettere dei commenti diciamo per come si fa nella vostra solito diciamo nel momento in cui programmate sulle cose che non sono immediatamente ovvie mettete un commento ma mettetelo pure tranquillamente non c'è nessuna ragione di non metterlo nel momento in cui ne mettete troppi anzi secondo me diventa quasi controproducente perché poi nel momento in cui andate a leggere i commenti dovete leggere tanti commenti e che magari sono cose ovvie e vi perdete la cosa che magari era importante sapere in quel momento perché l'avete fatta un po' diversa dal solito non lo so avete passato un handler che voleva due parametri però il secondo parametro era opzionale non lo so sto dicendo un po' così a caso e una volta l'ho usato in una maniera una volta l'ho usato in un altro magari ecco se avete fatto delle cose un po' particolari è bene scriverci una riga dicendo qui non passo al secondo parametro perché così la funzione si comporta in questa maniera però non diciamo non ci sono problemi a mettere dei commenti che in generale sono benvenuti intanto non è che uno voglio dire adesso è il primo anno che facciamo questo corso però voglio dire ne abbiamo già fatti di corsi di applicazioni web e così via anche se con tecnologie diverse mi assicuro che si vede subito diciamo se uno sa di che cosa sta parlando oppure non diciamo è lì che tentenda un pochettino a questo scopo ecco la cosa che mi sembra che abbiamo anche scritto poi nelle istruzioni che mi permetto di suggerire è diciamo magari voi consegnate la prova web e poi passano la prova diciamo il progetto passano magari una settimana o due ecco per favore solo prima dell'orale magari se uno diciamo prima dell'orale ci fa un giretto dentro non so una mezz'oretta si riguarda tutti i file si ricorda come ha organizzato la struttura dei componenti appunto si legge questi commenti che magari ha messo per ricordarsi dei punti un po' più strani e particolari che ha voluto inserire è meglio perché poi durante l'esame non abbiamo tanto tempo e se uno dice ma non mi ricordo non so eccetera non è che alla fine appunto possa prendere possa aspirare a un voto tanto bello nel senso che è chiaro che a forza di leggere il codice spero che tutti alla fine del corso siano in grado di interpretare un progetto scritto con i componenti react eccetera clicchiamo andiamo risaliamo il componente padre andiamo a vedere come è implementata la funzione eccetera però se facciamo un debug del progetto ecco non stiamo discutendo un progetto in cui ci sembra che abbiate fatto voi le cose se invece voi sapete dire che questa cosa l'ho fatta così in quel componente perché a me sembrava più giusto perché così lì tenevo lo stato e ho pensato di tenere lo stato lì perché senza neanche andare a aprire il codice alla fine oppure senza avere quel pezzetto di codice davanti è molto più indicativo del fatto che uno sa come ha organizzato il suo progetto è anche indicativo di come diciamo uno ha pensato di organizzare e del perché in realtà ci interessa soprattutto poi anche il perché non tanto il fatto appunto di andare a leggere il codice che ce lo saremmo anche già un po' guardati per poter dare una valutazione però ognuno di voi come naturale in un progetto diciamo in cui bisogna sviluppare del codice adotterà delle soluzioni diverse c'è chi chiamerà lo stato in una maniera o nell'altra lo metterà in un componente più in giù più in su più in su perché vogliono visualizzare un messaggio di error da un'altra parte cioè ognuno avrà le sue scelte ecco ci interessa in particolare che uno sia in grado di commentare le sue scelte e di spiegare anche le motivazioni perché questo è molto indicativo del fatto che ha ragionato su questo progetto e ci fa capire che ha sostanzialmente avuto la capacità di metterlo insieme ecco perché è partito da un progetto e poi ha fatto la sua implementazione ecco spero di aver reso l'idea quindi non è che è un commento in più o meno dei commenti più dettagliati ci cambiano ci fanno dire vabbè ma l'avrà fatto qualcun altro e sta solo leggendo i commenti perché tanto si può sempre fare una domanda che non riguarda esattamente quel commento ma è di tipo più generale a cui ovviamente ci si aspetta una risposta appunto di organizzazione del codice di scelte architetturali e cose di questo tipo quindi se ci sono dei commenti benvengano eviterete che fossero esagerati nel senso passano una property e ci sono due righe di commenti dicendo che passano la property insomma quello si vede ecco se passo una cosa strana oppure se passo un ender non so fatto in una certa maniera che può essere usato diversamente allora magari un commento ci sta ed è anche giusto dunque in merito all'esame nell'ultima lezione abbiamo parlato di differenze in fase di sviluppo e produzione per l'esame quale versione dobbiamo presentare dunque forniremo poi ancora delle indicazioni dettagliate per ogni diciamo appello stiamo per la verità ancora appunto pensando alle informazioni più dettagliate tra cui per esempio c'è anche la modalità di consegna quindi appunto c'è come si fa a consegnare adesso sarà un meccanismo via web o via web o via github come dicevamo github class insomma comunque ci saranno delle istruzioni e lì ci sarà anche scritto che versione dovete presentare io credo devo ancora finire di consultarmi con il professor con il corso in inglese però credo che ovviamente ci dovrete presentare una versione sviluppo perché altrimenti non riusciamo diciamo a capire ad aprire il codice insieme quando poi facciamo l'orale io non credo che il professor con vorrà diciamo la versione produzione che alla fine il bundle che viene creato diventa illegibile e quindi dovremmo poi fidarci del fatto che ci avete consegnato un bundle che corrisponde al sorgente però il sorgente è quello che dobbiamo commentare all'esame e quindi dovremmo avere anche il sorgente e se abbiamo il sorgente tanto vale fare il bundle noi se necessario ma non vedo perché dovremmo appunto provare il bundle nel senso che appunto noi sviluppiamo un progetto diciamo come prova finale del corso e ci interessano ci interessa come è stato fatto le scelte architetturali perché sono state appunto fatte certe scelte piuttosto che altre e così via diamo per scontato appunto che se necessario uno sia capace a scrivere npm build e farsi il suo bundle e metterle da qualche parte quindi io direi adesso a parte che cioè sempre che non abbiamo delle pensate strane col professor corno ma non credo perché è molto ragionevole insomma penso proprio una versione di sviluppo in cui il codice sorgente sia chiaro appunto ci siano i commenti eccetera in maniera che si possa da un lato lo dobbiamo guardare noi quindi non possiamo guardare solo il bundle e vedere se funziona cioè che funzioni facendo i click diciamo è un po' un requisito minimo nel senso che se uno chiede che ci sia una lista di task ci si aspetta che questa lista di task ci sia poi vabbè magari c'è qualche malfunzionamento c'è una cosa implementata diversamente eccetera però che funzioni è un po' il minimo e poi andiamo a dare un'occhiata al codice quindi ci facciamo un'idea di come è stato implementato per esempio adesso ne dico una così però potrebbe essere anche non è detto che ci sia scritto però per dire bisogna usare gli hooks per implementare lo stato andiamo a dare un'occhiata che ci siano un po' di hooks in giro nel codice sorgente ecco tanto per fare un esempio oppure non so se andremo a dare delle specifiche così dettagliate però per dire non so magari deve esserci deve essere gestito deve essere creato un componente per gestire il calendario un componente vostro e non un componente di libreria andiamo a cercare questo componente e così via e chiaramente lo dobbiamo fare nel codice sorgente le date di appello usciranno a breve oppure ci vuole ancora un po' dunque il rettore ha giurato giurato forse no però ha scritto che adesso vado a vedere l'email comunque oggi o domani escono le date abbiamo una bozza forse ne abbiamo anche parlato per ora per ora non mi sembra che siano cambiate sto solo cercando sul secondo schermo quindi sessione estiva e lo indice che saranno è in teoria oggi quindi possiamo andare solo a vedere se magari l'ha pure fatto penso nella sezione appelli di esame di esame sto cercando no in questo momento non c'è ancora comunque lui ha scritto oggi quindi oggi verranno fuori posso dirvi è sempre da prendere con il beneficio del dubbio nel senso che finché non sono pubblicate chiaramente non potete dire che erano quel giorno lì non vale dire che ve l'ha detto il docente posso dare appunto l'indicazione ma di quella che è l'indicazione al momento data a noi provvisoriamente che diventa definitiva nel momento in cui lo dicono anche a voi e non prima e quindi questi appelli adesso ce ne ho fatti sparire dal portale allora devo andare a prendersi un altro computer c'era un pdf prima comparivano in forma provvisoria poi si vede che si sono accorti del fatto che comparivano lì volevo dirvi appunto qual è visto che il rettore ha detto che escono oggi insomma quindi applicazioni web 1 al momento è previsto 29 giugno e 13 luglio quindi queste sono le date che ci hanno dato e che spero vengano confermate oggi però di nuovo finché non sono confermate prima di prima di ieri sera non c'era neanche l'email del rettore e dicevano che venivano pubblicate a breve e pensavamo che lunedì scorso lo fossero già lo saranno oggi al più domani io penso dovete considerare che siamo in una situazione un po' particolare in questo momento non è come la situazione in cui siamo al politecnico e quindi bisogna solo trovare un'aula e è finito lì se c'è uno scritto e qui stanno mettendo insieme diverse modalità d'esame fatte con diversi sistemi quindi online con il meccanismo del portale didattica le nostre che in realtà sono più semplici nel senso che sono solo orale e quindi di per sé non presentano particolari difficoltà e così via e quindi devono fare un orario che tenga conto delle esigenze di tutti i corsi e delle loro modalità differenti e quindi questo è il motivo per cui penso ci abbiano messo un po' più del solito ok quindi quelle sono le due date e quindi vuol dire che sostanzialmente verso fine giugno ci sarà la prima consegna del primo progetto e del progetto per il primo appello per chi vuole sostenere il primo appello la differenza comunque nel caso si adottasse una strategia doppio serve con proxy sarebbe minima in ogni caso dunque prima aveva detto dello sviluppo e produzione doppio serve con proxy sarebbe minimo in ogni caso cioè si non capisco bene cosa vuol dire nel senso che si nel senso che tanto io direi che sviluppate con creando il progetto col creator react app se partite da zero se no clonate il nostro e andate a modificare lì dentro clonate uno degli esempi che avete e andate a modificare lì dentro fa più o meno lo stesso mettete questa riga proxy in package json adesso prossimamente rilasceremo anche un esempio in cui c'è appunto anche questo appunto proxy qualcosa così vedete proprio cioè è solo da inserire una riga però magari c'è un esempio completo che già funziona è una qualcosa che non va può rifarsi l'esempio e nel momento in cui voi avete diciamo due server avete già risolto il vostro problema cioè il vecchio server dell'API sostanzialmente è quello che abbiamo già sviluppato nella prima parte del corso magari dobbiamo aggiungere una root nuova non lo so ci serviva fare la modifica del task che non l'avevamo implementato avevamo solo implementato l'aggiunto ok andiamo ad aggiungere un pezzettino perché c'è una funzionalità che non avevamo però è fondamentalmente quello lì lo fate partire sulla porta differente perché usate localhost e quindi ogni server deve avere la sua porta non possono esserci due server nascolti sulla stessa porta mettete quella riga nel proxy finito quindi per fare una cosa di produzione la produzione in realtà dal nostro punto di vista non vogliamo neanche insegnarlo nel senso è un po' come dire come faccio come funziona il sistema di mail e poi come faccio a crearmi un email su google vai leggi le istruzioni provi inserisci i tuoi dati eccetera e te ne crei una e qui la stessa cosa il deployment dell'applicazione come faccio devo avere qualcuno che mi offra un server web e mi dirà i file devi caricarli qui eccetera il server web gestisce i file caricati in questa cartella eccetera la cosa importante che devo conoscere e che è quella che abbiamo cercato di spiegare è come faccio a creare un insieme di file da mettere da qualche parte su un server web ed è questo questo è il fare il bundle che abbiamo visto nella lezione poi se voglio che l'applicazione funzioni con delle API allora la cosa è un po' più complicata nel senso che chiaramente ho bisogno che ci sia un server che mi fornisce queste API di nuovo sul vostro computer è facile e se no dovete trovare qualcuno che vi offra un servizio web in cui potete fare girare un ambiente node in cui mettete lo script che implementa le vostre API però questa è parte server e noi l'abbiamo fatta assolutamente perché è funzionale a far funzionare scusate il gioco di parole la nostra applicazione client nel momento nel momento in cui avete delle API già fornite da qualcuno che sapete come utilizzare le route e così via quindi sapete che potete scrivere slash corsi se qualcuno vi dei corsi eccetera potete anche semplicemente usarle non dovete neanche metterle su per quanto riguarda react bootstrap ok quindi vediamo un altro argomento react bootstrap è possibile utilizzare i component solo nel caso in cui sia necessario per esempio il model il resto realizzarlo normalmente si dovrebbe realizzare tutto tramite i componenti react bootstrap si si è possibile si sicuramente dai si interessante che dai suggerimenti anche sui file di testo penso fosse limitato a javascript ok sicuramente potete usare react bootstrap solamente per la parte che vi serve questo non c'è dubbio e diciamo che il consiglio è quello di usare react bootstrap principalmente per gli elementi html che hanno difficoltà a funzionare nel bootstrap normale perché si basano su del codice javascript che importa il bootstrap diciamo così normale per esempio quando chiedete per dire di avere delle animazioni particolari quindi usate delle proprietà del bootstrap normale che fanno sì che ci sia l'animazione per chiudere la cosa aprire la cosa eccetera oppure appunto la finestra modale è proprio uno di questi casi in cui sarebbe meglio usare il componente di react bootstrap perché così siamo sicuri che è compatibile al 100% con react perché diciamo il fatto che non potete accedere al resto nella pagina implementato via javascript e quindi magari funziona però se usate react bootstrap è meglio oppure usate un approccio alternativo nel senso che nell'esempio che abbiamo mostrato noi non abbiamo più fatto la finestra modale abbiamo fatto dei componenti e quindi non è che si toglieva l'accesso a tutto e si poteva più lavorare solo più lavorare su una finestra abbiamo diciamo usato un modo dell'applicazione l'avevamo chiamato un modo add o edit in cui compariva il form e potete fare la stessa cosa voi c'è anche nelle soluzioni del laboratorio è stato usato questo approccio e mi ha cambiato leggermente diciamo un modo di funzionamento quindi non viene più fuori una finestra modale ma viene fuori al posto del più viene fuori una X che vi consente di mandare via il form quindi vedete un po' voi io non credo che nell'esame ci saranno delle specifiche così diciamo dettagliate anche perché da un lato vorremmo che foste voi a giudicare quali sono le scelte che sono più ragionevoli secondo voi per risolvere il diciamo il tema d'esame che viene proposto quindi l'applicazione che tipo quella dei corsi esami e così via se vuole visualizzare la lista di corsi eccetera dà la possibilità di cercare un corso di inserirlo non lo so un qualcosa di questo tipo e quindi dovete strutturare un po' voi l'applicazione daremo delle linee guida nel senso che appunto dovrà esserci un navigation bar ci sarà non so ci sono delle funzionalità che siano disponibili da qualche parte non so di lato come i filtri dei task non so se viene fatta la ricerca come deve funzionare questa ricerca se necessario ecco dobbiamo ancora un po' pensarci a queste cose sicuramente vogliamo lasciare un po' di libertà perché è chiaro che voglio dire se specifichiamo tutto nel minimo dettaglio poi non è che possiamo pretendere che i progetti siano tutti diversi se invece si lascia un po' di libertà nelle specifiche ognuno di voi sarà libero diciamo di interpretarle nella maniera che ritiene ragionevole e quindi di adottare le conseguenti scelte che dipendono da come ha deciso di implementare le cose per esempio uno con la finestra modale l'altro invece con uno stato dell'applicazione che visualizza il form e nasconde il resto e viceversa quindi ognuno farà quello che ritiene diciamo più opportune che sia in linea con le specifiche che diamo però sono specifiche di tipo fondamentalmente funzionale dobbiamo essere in grado di visualizzare qualcosa di aggiungere di togliere di cancellare di che so di visualizzare come i task quali sono i task condivisi eccetera però vedrete poi almeno immagino che cosa quali sono le modalità che ritenete più opportune per implementare tutto ecco mi sente? sì 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 benissimo abbiamo una domanda voce mi sono perso parte della risposta perché mi è caduta la connessione ma non è un problema cioè ho capito di per sé che si può rispondere cioè si può usare entrambi insieme il react boostrap sì avrei sempre una domanda su boostrap perché cioè quando noi usiamo react boostrap facciamo cioè lo scarichiamo tramite mettendolo diciamo nel nel nostro file package json e quindi non mi è tanto chiaro nel boostrap normale cioè si quegli script che andiamo a caricare nell'html tra cui c'è per esempio anche jquery che in teoria dovremmo togliere se vogliamo usarlo assieme a react no? quindi quando lo uso non mi è chiaro come potrebbero convivere diciamo questi script e il boostrap per act sì dunque di per sé diciamo se non danno problemi li può lasciare no? perché cioè boostrap è scritto abbastanza bene no? non è che diciamo di per sé caricare quel jquery e tutte le funzioni boostrap che abbiamo visto finora in questo corso quelle del boostrap diciamo tradizionale non react creino un problema no? alla fine sono una serie di funzioni che finché non le usiamo stanno lì no? quindi di per sé si possono anche caricare il problema avviene nel momento in cui magari vogliamo usare un componente che ha un certo comportamento che è realizzato in javascript da boostrap in una certa maniera che è incompatibile con react allora non riusciamo più a usare quel elemento html gestito come vogliamo come lo gestiremmo col boostrap tradizionale e per risolvere questo problema non abbiamo altra alternativa che andare su react boostrap se proprio vogliamo usare quell'elemento html per esempio appunto diciamo la finestra modale per esempio dovrebbe essere una di queste che non è detto che funzioni non è detto che funzioni non vuol dire che non funzioni però appunto siccome usa del javascript e poi lato react magari noi vogliamo controllare degli altri aspetti con dell'altro javascript non è garantito che le due cose siano compatibili e quindi diciamo per venire sul pratico diciamo che quando quando si mischiano due cose bisogna sempre fare un po' attenzione se mischiate dei componenti scusa dei tag html diciamo che non hanno un particolare comportamento definito in javascript da boostrap si può fare perché alla fine boostrap è nato come un framework per fare la formattazione e il layout quindi di fatto sono delle regole css poi per comodità per fare certe cose più carine più belle più animate eccetera hanno usato anche un po' di javascript però voi con boostrap avete visto finora non avete mai dovuto scrivere una riga una di javascript avete solo dovuto impostare dei valori su degli attributi degli elementi html tutto il resto se lo fa da solo il problema è nel momento in cui impostare questi attributi scatena il funzionamento di codice javascript che fa una cosa in conflitto con quello che poi vorrebbe fare react e allora lì avete un problema e dovete fermarvi perché non potete andare dentro boostrap a modificare il suo javascript cioè non ha senso andare a fare una cosa così perché chiaramente voglio dire perdete l'utilità di usarlo l'utilità di usarlo è che è già pronto all'uso se dovete andare a pacioccarlo non serve più e la soluzione è quindi abbandonare per quello specifico elemento html diciamo la come dire lo stile del boostrap tradizionale inserire è quello del boostrap react quindi usare il componente lo chiamo il componente ma diciamo il tag reso compatibile con react che di fatto quindi è diventato un componente compatibile a react tutto qui a livello pratico lasciate pure tutto quello che avete caricato se vedete che ci sono dei problemi togliete la libreria javascript le librerie javascript di boostrap e poi se c'è qualcosa che non funziona vuol dire che in quel caso dovete andare a prendere il componente react di boostrap react e quello si porterà già dietro l'implementazione eccetera in maniera automatica perché l'avete installato con npm install boostrap react ve l'ha fatto mettere nel package json che vuol dire che il creator react app sa già che c'è e se lo importa se lo gestisce se lo lavora tutto per conto suo e non avete bisogno di fare niente l'ultima cosa che mi permetto di dire è appunto forse non è l'ideale lavorare con metà componenti html metà componenti react boostrap react ecco ma semplicemente per una questione di pulizia concettuale ma dovete appunto vedere un attimo voi nel senso cioè se di per sé questi componenti html col boostrap tradizionale non fanno niente di particolare potete anche lasciarli cioè mischiare delle cose è sempre complicato perché c'è sempre il rischio c'è una cosa in più che potrebbe andare male ecco tutto qui quindi magari a un certo punto per dire c'è una cosa voi volete vedete su internet non lo so andate da qualche parte cercate vedete che qualcuno ha scritto ma puoi far così aggiungi questo attributo lo aggiungete e poi non funziona e vi chiedete come mai e magari non avete fatto niente di male ma semplicemente dovuto al fatto che fino a quel momento non stavate utilizzando nessuna peculiarità del bootstrap tradizionale dentro al vostro progetto in quel momento ne chiamate una che è combinazione incompatibile con il bootstrap ma non ce l'ha scritto e diventate matti a debagare le cose perché in realtà non avete fatto niente di male e quindi è un po' è un po' quello il problema di usare bootstrap react rispetto al bootstrap normale dovete un po' vedere voi cosa vi conviene fare di per sé bootstrap react diciamo almeno a meno che non volete fare cose particolarmente diciamo come dire animate o usare comportamenti particolari eccetera non è detto neanche che vi serva vedete un po' voi io adesso questo magari me lo appunto ne parlo col professor corno secondo me non dovrebbe essere un requisito del progetto ecco da consegnare per l'esame perché secondo me diciamo ci potrebbe essere libertà ecco in questo senso di dire se se volete usarlo usatelo noi consigliamo anche potremmo anche dare un consiglio per dire consigliamo di usarlo ma non è il fatto che l'avete usato o no se tutto funziona se tutto è fatto bene vi può vi può dare diciamo un vantaggio particolare in termini di valutazione o perlomeno se succede questo saremmo sicuramente espliciti nella nella diciamo nella descrizione delle specifiche ecco questo si nel senso se aspettiamo che usate booster product lo scriviamo perché se no chiaramente uno può dire ma io non l'ho usato funzionava tutto ho fatto tutto quello che è stato richiesto perché avrei dovuto usarlo no quindi bisogna ancora avere un pochino di pazienza nel senso che appunto dobbiamo essendo primo anno essendo che facciamo il corso essendo il primo appello e chiaramente è tutto da fare e cercheremo di diciamo di di chiarirci le idee anche un po' stata facendo e anche grazie al vostro feedback per esempio di queste sessioni live ecco quindi tipo qualcuno appunto mi chiede react to bootstrap l'avranno chiesto anche il professor corno per carità quindi diciamo nel momento in cui proviamo a mettere giù una traccia per l'esame cercheremo di chiarire questi aspetti ecco poi come avete visto ecco forse visto che non ci sono domande ulteriori perlomeno in questo momento sulla sulla chat magari possiamo dare un'occhiata appunto alle regole d'esame come avete visto nelle regole d'esame sostanzialmente abbiamo un momento diciamo in cui possiamo discutere dubbi quindi queste cose si possono tranquillamente chiedere e se per caso non si è stati sufficientemente chiari possiamo anche aggiungere una nota per dire si vorremmo che venisse usato react bootstrap oppure siete liberi di fare come volete basta che fate una cosa che funzioni e poi siete in grado di spiegare nel senso io non ho voluto usare react bootstrap perché perché non ne avevo bisogno e non ho usato componenti che richiedevano qualcosa appunto che andava in conflitto con react e quindi ho pensato di usare appunto oppure ho voluto usare react bootstrap perché ho visto che mi facilitava nel creare la finestra modale non lo so ecco e questo l'ho voluto fare così e basta ecco quindi diamo un'occhiata appunto alle regole dell'esame ecco come avete visto le regole sono scritte in inglese nel senso che le abbiamo fatte uguali identiche corso italiano corso inglese spero che non sia un problema abbiamo fatto anche le slide eccetera se avete dei dubbi sull'interpretazione che non credo perché tutti dovreste aver dato l'esame di inglese e questo inglese è l'inglese tecnico quindi non è che sia Shakespeare insomma quindi dovrebbe essere relativamente facile da capire però ci fossero eventuali dubbi potete chiedere quindi l'esame si svolge in forma remota questo lo sapete per lo meno per giugno-luglio la nostra sensazione è che si andrà avanti ancora per un bel po' però cioè in questi in questi mesi nessuno può dire che cosa succede tra un mese quindi sicuramente giugno-luglio il rettore ha deciso cioè il rettore e il senato accademico tutti hanno deciso e queste sono le modalità diciamo che adottiamo poi il giorno che si potrà tornare non so torniamo alla modalità tradizionale però devono darci prima indicazione in merito quindi queste sono le modalità remote che in realtà appunto cambiano nel senso che dobbiamo praticamente fate il progetto a casa e lo discutiamo poi remotamente appunto in una videoconferenza quindi l'esame è un progetto di sviluppo di un'applicazione web da sviluppare secondo le specifiche che verranno pubblicate quindi 20 giorni in anticipo rispetto alla data dell'appello quindi se questa data rimane confermata del 2029 mi sembra di aver detto prima sarà intorno 9 quindi voglio dire l'inizio dell'ultima settimana di corso quindi ci sono tre settimane sono quasi tre settimane per svilupparlo ci sarà un tema d'esame per ogni appello e dovete sviluppare quello relativo all'appello che intendete sostenere deve essere sviluppato individualmente e va bene questo abbiamo già chiarito più volte nel senso che dovete svilupparlo voi ecco non 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 fatelo in collaborazione poi cambiando solo una virgola perché cioè è chiaro che uno si può confrontare con i colleghi a dire ma non so cioè come vi confrontate in generale durante il corso non è vietato parlarsi diciamo desidereremo che ognuno di voi sia abbia scritto diciamo il suo codice a partire non da zero ma che so magari dagli esempi che abbiamo fornito modificandolo adattandolo secondo quello che riteneva opportuno e diciamo ragionando per conto suo e facendo le cose per conto suo questo naturalmente dovrebbe portare a progetti che sono un po' diversi tra loro questo va da sé perché qualcuno deciderà di chiamare i componenti in una certa maniera piuttosto che un'altra deciderà una certa gerarchia di componenti con più componenti meno componenti così via di metterlo stato in un posto in un altro di dividerlo diversamente tra componenti cioè sono le dinamiche normali dello sviluppo di un progetto ecco durante la parte orale dell'esame ogni studente deve essere in grado di dimostrare che diciamo è stato in grado di sviluppare il progetto in autonomia mostrando conoscenza di che cosa ha fatto nel senso se appunto apriamo qualche cosa vediamo una cosa strana tipicamente nell'orale ci focalizzeremo sulle cose che magari non abbiamo capito in autonomia quando abbiamo guardato il progetto prima e quindi questo sicuramente è qualcosa che verrà chiesto qui io non ho capito perché ci sono tre componenti quando in realtà a logica avrei detto ce n'è uno solo e probabilmente ci sarà una ragione per la quale voi avete fatto tre componenti e la spiegate ecco la cosa che non vorremmo vedere è semplicemente che uno dice ah ma adesso non lo so non mi ricordo più perché tre componenti ma chissà cosa fanno un attimo che guardo il codice eccetera cioè questi comportamenti sono un po' preoccupanti ecco nel senso ci fanno danno l'impressione che uno non sa più bene cosa fa magari è un progetto voglio dire che è composto da tanti elementi ed è questo il motivo per cui dico prima di venire all'orale e quindi prima della discussione anche poco prima se uno si riguarda un po' tutto la sua struttura cerca di ripassare un attimo come era la gerarchia dei componenti se la va a rivedere dentro il browser per dire col suo debugger eccetera così si ricorda perché aveva messo un componente in una certa maniera ne aveva fatti tre anziché uno e così via è una buona cosa perché così quando uno chiede quando il docente chiede lo studente ha già una risposta pronta senza dover dire ma qui aspetta non mi ricordo ne ho usati tre ma a me sembra di averne usati uno ecco insomma tutte queste cose che però mi sembrano di buon senso le abbiamo scritte ma sono quasi cose di buon senso che potremmo lasciare implicite quindi prima della deadline che tipicamente sarà appunto la data dell'esame quindi la data dell'appello dove essere sottomessa la versione finale del progetto e daremo delle istruzioni tecniche che appunto in questo momento di nuovo non esistono ancora e diremo bisogna sottometterla sul sito X bisogna fare un commit sul git in questa maniera non so ecco ci sarà un qualche meccanismo di consegna dopodiché non si potrà più toccare perché chiaramente non vogliamo che nel momento in cui ci mettiamo a fare gli orali qualcuno diciamo si metta a modificare la sua soluzione sulla base delle cose che stiamo valutando perché non sarebbe giusto nei confronti degli altri perché chi passa per primo se no avrebbe uno svantaggio ma questo è normale si consegna una cosa come se foste in laboratorio consegnato una cosa finito dunque ovviamente desideriamo che anzi vogliamo che consegnate una cosa che funzioni che si possa almeno lanciare quindi secondo le istruzioni tecniche noi faremo non lo so npm scarichiamo il progetto facciamo npm install in maniera che tutti i pacchetti vengano installati facciamo npm start per dire e ci aspettiamo che il progetto parta oppure se c'è il proxy non so facciamo node index.js e npm start oppure diremmo non lo so di metterlo nel package json a riga di azione che fa partire tutto non lo so scriveremo qualcosa in queste documentazioni tecniche e ci aspettiamo che poi diciamo scaricato npm install per mettere a posto tutte le dipendenze e lanciato si possa usare ok poi arriviamo all'orale qualche giorno dopo aver pubblicato il tema d'esame i docenti saranno disponibili o il docente qui dipende su una video chat quindi come queste visto che le abbiamo usate finora per chiarire eventuali dubbi quindi si potranno porre domande tipo non so ci sarà sempre qualcosa che diciamo sarà da chiarire nel senso se parliamo appunto implementiamo i task ma i task devono avere anche queste caratteristiche i task devono essere bisogna anche far così o no dobbiamo usare react bootstrap o no questa è una cosa più generale però è che magari è già risolta nell'istruzione quindi a seconda del tema d'esame potranno sorgere dei dubbi che è naturale discutere con chi vi chiede di preparare una soluzione come se aveste vi fosse commissionato un lavoro vi chiedono di sviluppare un'applicazione e vi danno diciamo un'indicazione scritta di cosa vogliono però a un certo punto magari si presentano diverse scelte oppure c'è la possibilità di svilupparle in diverse maniere oppure non è ben chiaro che cosa si intende non lo so per task piuttosto che per non so lista prodotti eccetera potete chiedere ecco quindi sono specifiche scritte su carte quindi è quasi naturale che ci sarà qualche cosa di scritto che non sarà del tutto chiaro e non ambiguo perché uno cerca di scrivere le cose chiaramente però non è detto che ci si riesca sempre quindi potrete poi collegarvi io penso che registreremo anche questa sessione oppure potete poi fare domande su slack per esempio sul canale che abbiamo a disposizione in questo momento abbiamo appunto questo slack che sembra funzionare bene sono praticamente ci sono più di 100 100 iscritti quindi penso che ci sia buona parte del corso va bene submission deadline il giorno prima dobbiamo mettere un qualche ora di scadenza ecco dovete essere iscritti al corso ma vabbè se siete qui ovviamente lo siete ah no scusate enrolled era scritto corretti enrolled e si intendeva all'esame no dovete essere prenotati all'esame quindi più che altro perché così ci date l'opportunità di capire quanti siete che volete sostenere l'esame al primo appello però siccome non c'è nessuna penalità per gli studenti che si sono iscritti all'appello ma non sottomettono il progetto voglio dire semplicemente saranno assenti come se se ci fosse uno scritto e non venite quindi il mio consiglio è prenotatevi se pensate di volerlo sostenere tra l'altro credo che da quest'anno si possa anche prenotarsi e poi sprenotarsi praticamente fino al giorno prima dell'appello una cosa così l'unica cosa che dopo che sono chiuse le prenotazioni non ci si può più aggiungere però ci si può sempre sprenotare cosa che invece prima non era possibile quindi nel momento in cui vi rendete conto che non ci state dentro i tempi è successo qualcosa e non riuscite a finire il progetto vi sprenotate più che altro per cortesia perché appunto siccome non c'è alcuna penalità è semplicemente una cortesia che ci fate così abbiamo un'idea di quanti studenti ci sono e ci facciamo un calendario diciamo di lavoro più appropriato ecco dopo che avete sottomesso il progetto guarderemo queste soluzioni e forniamo un voto per ogni soluzione dopo c'è scritto quanto è mi sembra fino a 24 e a seconda di quanti siete può darsi che ci mettiamo un po' di giorni nel senso che se venite in centro il primo appello è chiaro che vedere 100 progetti richiede il suo tempo magari siamo anche in due quindi con Luigi eccetera però ci vuole il suo tempo questo se siete in 10 cosa che appunto di solito il primo appello non capita nei primi appelli non capita magari facciamo tutto in un giorno se siete in 100 cercheremo di fare il più fretta possibile però ci vorrà un po' di tempo qualche giorno quindi ci saranno dei criteri minimi nel senso che so appunto se c'è da implementare una lista di prodotti adesso sparo così una cosa a caso non abbiamo assolutamente ancora parlato del tema d'esame però che ne so un sito di commercio elettronico c'è una lista di prodotti visualizzabili poi uno clicca li mette in un carrello faccio per dire proprio il classico tema d'esame cioè il classico esempio di un'applicazione web una delle prime un carrello del commercio elettronico se apriamo l'applicazione non si vede niente non c'è una lista di oggetti oppure c'è la lista di oggetti clicco su aggiunge il carrello non c'è il carrello non funziona il carrello eccetera e chiaramente questo è un progetto che non soddisfa i requisiti minimi chiariremo quali sono i requisiti minimi in ogni appello in ogni tema d'esame per ogni appello perché questi dipendono da cosa diamo da fare chiaramente non saranno requisiti del tipo deve funzionare tutto perfettamente perché se no non diamo più un voto sarebbe passato o non passato però appunto magari c'è qualcuno che fa ha fatto questa lista di prodotti ma non lo so c'era una funzionalità da implementare che era feedback della parte degli utenti di quanto questo prodotto piace da 1 a 5 e quella cosa lì non c'è vabbè però il resto funziona ne manca un pezzo non prenderà il massimo però diciamo il minimo l'ha fatto quindi avrà diciamo l'equivalente di una sufficienza o di più se ci sono più cose manca poco ecco ecco questi sono criteri di carattere generale quindi chiaramente vorremmo una cosa che funzioni funzioni senza particolari errori quindi che non vengono fuori degli errori sia a schermo nel browser in parte nella console mi verrebbe da dire tranne gli errori triviali nel senso che ogni tanto ci sono dei warning delle cose eccetera però certo se uno dice cioè se non funziona qualcosa perché diciamo ci sono dei malfunzionamenti poi diamo un'occhiata nella console ed è pieno di errori ecco questa cosa chiaramente non andrà bene però e quindi in qualche maniera sarà negativamente valutata e poi organizzazioni come avete organizzato le vostre API come avete deciso di chiamarle dal client e tutto quanto no l'architettura dei componenti che avete organizzato che si capisca un po' questo codice che non vuol dire che deve essere commentato ogni riga però che sia ben organizzato nel senso che se ci sono 30 componenti che non ci sia un unico file con 30 componenti perché se no non si capisce più niente che però non vuol dire che devono esserci 30 file uno per componente no un minimo di organizzazione ragionevole come voleste tenere le cose organizzate chiare e così via che peraltro dovrebbe anche aiutarvi a scrivere un buon progetto ad ogni parte del progetto sarà attribuito un punteggio a questo è un po' da chiarire ancora chiaramente ci daremo delle linee guida che saranno più chiare nel momento in cui decideremo una struttura più di dettaglio di questi temi di esame quindi nel momento in cui decidiamo un primo tema di esame cercheremo anche di darci delle linee guida in questo senso diciamo che in queste linee guida che però diciamo ci daremo noi internamente a meno che non so il professor Corno non sia dell'idea di pubblicare però secondo me no nel senso la valutazione finale secondo me finale del progetto sarà appunto un voto complessivo non lo so se ci sarà un dettaglio più specifico questo è di nuovo una cosa che possiamo posso discuterne con lui quindi questo ho fatto bene a segnalarlo vediamo sicuramente diciamo che avremo dei pesi per dire per le parti che mancano quindi per dire che non siano fondamentali come vi dicevo prima se c'era la lista dei prodotti il carrello e poi si doveva implementare non so il gradimento dell'utente sotto forma di un po' di stellette o non so un voto da 1 a 5 qualcosa di questo tipo come su Amazon per dire che votate i prodotti se è la base che vi piacciono no no se non c'è quel pezzo vabbè un pezzo non fondamentale decidiamo non lo so che vale 4 punti per dire anziché il massimo dipende il massimo meno 4 punti perché non c'è quella funzionalità lì ecco questa però è una cosa semplice c'è non c'è diciamo ci sono aspetti come leggevamo prima che sono che sono una valutazione un po' più complessiva no architettura dei componenti che sia ben organizzato no quindi anche lì bisogna un po' capire diciamo probabilmente daremo una cioè ci daremo un po' dei pesi per non fare le cose diverse del corso italiano al corso in inglese però certe cose saranno un po' più diciamo discrezionali no nel senso come si fa a valutare un'architettura cioè se è ben organizzata o diciamo non è ben organizzata con con fond eccetera no cioè quindi bisogna un po' cioè la valutazione complessiva ci sarà sicuramente però diciamo che la valutazione complessiva sarà in qualche modo guidata da una valutazione di questi aspetti no che sono poi il motivo per cui abbiamo voluto sottolineare questi criteri no cioè non è che lo apriamo diciamo ci piace non ci piace andiamo alla ricerca di queste cose una buona organizzazione di componenti una buona organizzazione client-server che sia ben separato cosa fa il client sia anche l'API su server e vengano gestiti gli errori il codice lo apriamo che sia leggibile non sia appunto un unico file con tutto dentro e queste cose e quindi non voglio dire che sia la somma perché la somma è un po' restrittivo però è sicuramente una considerazione di carattere generale su tutti questi aspetti che poi sono gli aspetti che fondamentalmente dovrebbero essere quelli che vi guidano a cercare di scrivere un progetto ben scritto ben fatto ecco niente di particolare bene una volta che abbiamo dato questa valutazione ci sarà un calendario per gli orali se avete preso la sufficienza per la parte del progetto quindi come penso capiterà in quasi tutti i casi perché voglio dire se avete più o meno appunto questa lista di criteri lo fate a casa con il vostro tempo avete il tempo di debaggarlo di sistemarlo credo che quasi tutti i progetti consegnati saranno sufficienti a meno che lo apriamo non gira e allora è un altro discorso però voglio dire non credo che ci sarà una particolare sorpresa perché non è come dire siete in un laboratorio avete due ore di tempo e se poi magari c'era la virgola che è saltata non parte lì cioè qui avete il tempo avete tanto tempo per poter mettere a posto le cose e quindi consegnare qualcosa che ragionevolmente ottiene almeno la sufficienza quindi faremo questo esame orale in cui chiaramente ci colleghiamo da remoto e dovremo vabbè bisognerà che siete almeno in due ma in qualche maniera ci metteremo d'accordo perché il regolamento è politecnico così vuole d'altronde mi sembra anche ragionevole ci siano dei testimoni ma come ci sono durante gli esami orali anche in presenza bene vabbè bisognerà identificare lo studente fate vedere chi siete voi eccetera eccetera e lo scopo dell'orale è duplice è assicurarsi che conosciate la soluzione e che quindi ci diate perlomeno l'impressione di averla sviluppata voi quindi appunto quando discutiamo della vostra soluzione vi orientate e sapete di cosa state parlando se ci sono degli aspetti particolari sapete giustificarli quindi e valuteremo appunto quanto siete in grado di spiegare il comportamento del vostro codice e di giustificare soprattutto le scelte che avete utilizzato e appunto magari c'è qualcosa che non è immediatamente evidente a uno che guarda il progetto semplicemente dando un po' un'occhiata al codice e che però quando spiegato viene cioè ha un suo senso e quindi diciamo viene positivamente valutato no? oppure se al contrario se uno diciamo troviamo nelle parti di codice strane uno non sa spiegarle non capisce non sa esattamente cosa succede e d'altro non era una parte che poi alla fine non funzionava eccetera e diciamo questo ha un impatto negativo ecco sulla sulla valutazione della parte orale e tendenzialmente apriremo noi il codice sorgente che è quello che avete consegnato così siano sicuri di aprire quello consegnato lo vedrete come state vedendo adesso con lo screen sharing o insomma con qualche meccanismo di questo tipo ecco questo è diciamo è quello che ci aspettiamo che succeda nell'esame orale quindi spiegare soprattutto i ragionamenti che sono stati fatti dietro alle scelte che avete usato nel vostro progetto perché questa è una delle cose più importanti è quello che ci fa capire se avete ragionato come avete ragionato e intanto noi vediamo anche chi si è in linea con quello che è stato fatto nel codice e diciamo ci dà un'indicazione del fatto che dovreste averlo fatto voi e vi siete posti i problemi giusti e vi siete date delle risposte ragionevoli per il tema proposto ecco ecco che alternative nel senso di non proprio tutte le possibili alternative ma nel senso se uno è usato appunto non ha voluto usare React Bootstrap e uno per dire chiede ma perché non ha usato React Bootstrap e magari appunto uno dice ma sì avrei potuto anche usarlo sì in effetti non c'era nulla di male però insomma ho fatto così ho valutato ho provato alla fine funzionava non c'era non c'era un'interazione particolare col javascript di Bootstrap e quindi ho valutato di lasciarlo così però in effetti si poteva fare col Bootstrap React cioè quindi cosa di questo tipo oppure perché ha passato una proprietà perché ha passato tutta questa funzione fin dal dal che so dal dal componente padre fino all'ultimo dei figli passando ogni volta la properties eccetera si poteva far diversamente uno può rispondere ma sì in effetti si poteva usare un context tanto sto sparando così tanto per dare degli esempi no e in effetti sì si poteva usare un context alla fine questa era l'unica proprietà che doveva passare così diciamo tra tutti i componenti ho pensato che non fosse il caso di andare a creare un context solamente per una proprietà va bene ci sta come risposta fa capire che uno sa che cosa è un context fa capire diciamo che uno si oriente ha anche avuto diciamo l'accortezza di ragionare su eventuali possibili implementazioni no poi non è che uno deve aver fatto tutte le possibili implementazioni però diciamo se qualcuno si è posto un problema cioè lo studente si è posto il problema di farlo così e ha ritenuto che ci fossero delle ragioni valide per cui è stato fatto così va bene ok concludiamo in fretta la cosa dell'esame poi rispondo al vostro collega sulla chat quindi questi sono i criteri di valutazione dell'orale quindi dovete conoscere come avete implementato il vostro progetto cioè le scelte di progetto che avete fatto sia a livello teorico come lo avete organizzato sia a livello pratico cioè questo componente di cui mi parla me lo trovo nel codice sorgente e la chiarezza con la quale diciamo ci date le risposte ma sì ma in realtà il componente che poi però è un elemento html ma che poi in realtà no perché lo crea react ma forse bootstrap cioè non vorremmo sentire discorsi di questo tipo vorremmo cioè stiamo guardando un componente è un componente un componente react e sappiate cosa vuol dire componente e che bootstrap diciamo al più fa un minimo di gestione della visualizzazione con CSS e al massimo se funziona un minimo di animazione di certi comportamenti tramite javascript senza diciamo arrabattarsi arrampicarsi sui vetri per diciamo per spiegare quello che è stato fatto anche a livello di diciamo di come lo spiegate cioè che so non confondersi tra un elemento html un componente gsx che in realtà è javascript e così via cioè stiamo vedendo questo pezzo di codice ma questo pezzo di codice html gsx che cosa passiamo all'attributo perché ci sono queste parentesi graffe eccetera cioè bisogna saper spiegare queste cose ma che credo siano diciamo normali nel momento in cui avete seguito il corso e avete capito un po' tutto il meccanismo cerco di stringere un po' che ci manca abbia un pochi minuti ma dunque ci sono 24 punti assegnati al progetto e 8 punti assegnati all'orale quindi vedete tra l'altro che la somma fa 32 se arrivate a 31 32 avrete 30 e siamo contenti tutti quindi ci diamo anche un minimo di margine abbiamo questo minimo di 12 per il progetto ecco l'orale è necessario per concludere l'esame quindi non potete consegnare il progetto e poi dire non vengo l'orale se uno non viene all'orale non passa a quell'appello ecco e poi questa è la cosa e soprattutto non passa quell'appello e diciamo non può riciclare il tema d'esame quindi non è che può venire all'appello successivo presentando lo stesso progetto deve fare il progetto dell'appello successivo però può sempre ritirarsi prima non consegnarlo e non c'è nessuna penalità per questa cosa ecco il voto finale dopo l'orale non può essere rifiutato nel senso che se decidete di venire all'orale voi sapete già qual è il voto della parte del progetto e quindi diciamo se avete preso 24 è chiaro che sapete che potete aspirare al 30 load se avete preso 12 è chiaro che potete aspirare a più 8 fa 20 quindi se non va bene il 20 è inutile che venite se diciamo che non è detto che uno viene all'orale prende sempre 8 soprattutto se poi ha consegnato qualcosa da 12 è dubito che prenda 8 di orale però diciamo vi potete già fare un'idea di che voto prenderete che questo in parte mitiga il fatto appunto che non diamo la possibilità di rifiutare l'esame perché sennò soprattutto poi con questa modalità remota e tutto finisce che poi uno viene a provarlo 50 volte e siccome siete in 150 non finiamo più e tra l'altro non sarebbe giusto neanche nei vostri confronti perché poi ci mettiamo tanto tempo a valutare delle cose che poi alla fine non si concretizzano in nulla quindi per favore pensateci bene prima di venire a fare l'orale se vi sentite abbastanza sicuri avete un buon voto del progetto penso che non sarà poi una limitazione così forte il voto finale sarà la somma va bene non si può portare il progetto agli appelli successivi ecco non vorremmo solo vedere soluzioni eccessivamente simile e magari faremmo dei check però come vi dicevo prima le specifiche sono abbastanza diciamo di tipo funzionale quindi saranno di tipo funzionale abbiamo bisogno di una lista di oggetti vogliamo un carrello non è che diciamo vogliamo un carrello implementato in questa maniera vogliamo questo quindi è difficile che sia sviluppato in autonomia insomma ci siano dei problemi di questo tipo perché cioè a meno che non condividiate il codice con i vostri colleghi insomma ben difficilmente uno organizza tutto nella stessa identica maniera e così via poi ci sono una serie di raccomandazioni generiche quindi che in parte abbiamo già detto quindi ripassate il codice prima di venire all'orale sembra banale ma cioè con il corso precedente tipo che non si è distribuito a uno ci sono tanti che dicono ma io l'ho consegnato due settimane fa non mi ricordo più eccetera cioè spendete quei dieci minuti quarto d'ora andare a dare un'occhiata al vostro codice che aiuta tutti svertiamo pure gli orali e prendete pure un voto migliore potete usare cose che trovate in rete però chiaramente se se prendete qualcosa che trovate in rete dovete essere in grado di spiegarlo che non vuol dire saper spiegare fino nei minimi dettagli che cosa fa ogni singola virgola della libreria che avete importato ma spiegarci perché avete avuto bisogno di quella libreria che cosa cioè come si usa quella libreria l'usata perché avevo questo problema ho visto che questa risolveva e non avevo un altro modo di risolvere in maniera semplice eccetera questo va bene bisogna solo essere in grado di spiegare che cosa è stato fatto ecco cercate diciamo di usare diciamo l'approccio che abbiamo spedito a lezione che non vuol dire per forza attenersi al 100% però se usate un approccio completamente diverso dovete essere in grado o molto diverso da quello che abbiamo spiegato dovete essere in grado di spiegare il motivo io ho voluto usare che so dukes così eccetera perché in realtà io volevo realizzare questa funzionalità cioè bisogna essere in grado di spiegare a parte che funzioni però essere in grado di giustificarlo per bene no se no certe cose saranno sbagliate punto però certe cose magari sono soggette all'interpretazione di chi vuole sviluppare la soluzione noi abbiamo dato un'impostazione React da un'impostazione a come si devono sviluppare diciamo i progetti secondo appunto la sua filosofia è da seguire se uno inserisce qualcosa di particolare deve deve spiegare perché l'ha fatto ecco se se non è e se non lo sa spiegare non va niente bene ecco quindi in generale potete diciamo usare librerie esterne eccetera soprattutto quando sono cose noiose per i quali esistono delle librerie che so il calendario gestire le date tutte queste cose che sono tipicamente demandate delle librerie ovviamente vogliamo una soluzione su React ultimo punto cioè è vero che abbiamo insegnato JavaScript però non vogliamo vedere un'applicazione che non usa React cioè insomma l'esame è anche su React quindi e dovete usare React non potete dire l'ho fatto con Angular l'ho fatto con no come per la parte server non potete dire l'ho fatto in PHP no sì abbiamo siamo perfettamente coscienti del fatto che si può fare diversamente però dobbiamo darci delle regole perché se no ognuno fa come vuole poi non riusciamo neanche più a testarlo voi l'ho fatta in PHP e poi come la testiamo nel senso che noi siamo predisposti per fare tutti i test con node i moduli eccetera eccetera arriva uno l'ha fatto in PHP arriva l'altro l'ha fatto in Rust arriva l'altro l'ha fatto in Python a parte il fatto che appunto non l'abbiamo spiegato nel corso però di nuovo cioè poi perdiamo solo tempo per questioni banali e non diciamo a parte il fatto che non è che noi anche siamo esperti di tutto tutte le tecnologie tutti i linguaggi eccetera però abbiamo fatto vedere una maniera di fare l'auto server in JavaScript ecco desidereremo che usaste questa maniera e soprattutto SQLite che non è una fissa ma è diciamo solo un modo per per avere diciamo non avere una complicazione per il database noi non siamo un corso che insieme ai database quindi è vero che potremmo usare un database esterno eccetera ma nel momento in cui abbiamo un problema noi cancelliamo tutto copiamo i file copiamo anche il file del database SQLite e ripartiamo dalla condizione nota ok la condizione iniziale che avete stabilito voi eccetera per cui non c'è che c'è il database server su un'altra porta un'altra macchina al configurare la porta tutti questi pasticci che appunto ci farebbero solo perdere tempo a noi e anche a voi ok sono andato troppo lungo però almeno abbiamo commentato e restano registrate questi commenti sulle regole d'esame rispondo ancora il vostro collega che ha scritto una domanda sulla chat domanda sul lab 8 e 9 in particolare a lezione abbiamo detto che bisognerebbe reidratare la nostra applicazione React in component deep mount nel laboratorio quando andiamo a reperire i task secondo un certo filtro le API sono chiamate in delle funzioni a parte funziona fister task la domanda è è giusto chiamare qui le API oppure devono essere in qualche modo spostate nella funzione component deep mount no è giusto nel senso che qui il component deep mount viene richiamato solamente nel momento in cui il componente è creato per cui va bene solamente per caricare l'informazione all'inizio e poi non viene più richiamato ok quindi neanche se volesse può spostare quelle funzioni lì dentro il posto giusto per andare a chiamare le API è nel momento in cui succedono delle azioni tipicamente azioni scatenate dall'interazione con l'utente come ha detto filtro io ho cliccato su un filtro qualcuno ha cliccato su un filtro c'è l'handler del filtro che risponde all'on click e lì si scatenerà una richiesta sincrona verso il server e che farà un'operazione si deve farla e nel diciamo a valle dell'operazione verrà aggiornata l'interfaccia web se così volete fare se volete fare il meccanismo dell'optimistic update quindi sperare che comunque vada tutto bene va bene potete farlo adesso nel filtro in realtà il filtro è una cosa più semplice nel senso che il filtro potete anche farlo lato client quindi non ha bisogno di parlare col server però se volete parlare col server qui filtro se fate filtrare il server chiaramente dovete aspettare la risposta del server quindi qui non si pone il problema di questo update l'update si pone quando andiamo a modificare delle cose sul server quindi aggiungiamo il task modifichiamo dei valori del task e così via se volete che l'interfaccia dia la conferma immediata lo potete fare coscienti del fatto che però il server potrebbe darvi un errore quindi da qualche parte bisognerebbe visualizzarlo questo errore se poi si verifica e riaggiornare l'interfaccia oppure la seconda opzione è sostanzialmente nel momento in cui attendiamo la risposta del server visualizzare un qualcosa di intermedio tipo una rotellina che gira una scritta loading da qualche parte o updating in questo caso e così via e poi farla sparire nel momento in cui avete la risposta e questo l'abbiamo visto si può fare aggiungendo un campo in più nello stato dire se siamo in attesa o no con un flag true false e se il flag è true se siamo in attesa a visualizzare qualcosa ok quindi è giusto chiamare l'api dove serve e noi abbiamo solo detto che all'inizio non avete un evento da parte dell'utente l'evento è la creazione del componente e la creazione del componente la agganciamo in component in mount tutto lì ok e non possiamo farlo nel costruttore nel costruttore possiamo farlo solamente dobbiamo impostare uno stato e non possiamo usare la set state cioè dobbiamo scrivere this state uguale e non possiamo aspettare la risposta del server se non si blocca tutto ok quindi non vedo altre domande è tutto chiaro benissimo e comunque se avete come sempre domande o dubbi c'è c'è slack e domani c'è il laboratorio ci sono le due squadre e ci sarò io per entrambe le squadre perché Luigi non può un impegno istituzionale col Politecnico e e quindi ci vediamo domani mattina e chiaramente possiamo parlare in particolare del laboratorio ma se avete ancora dei dubbi su queste cose chiaramente possiamo parlare grazie a tutti vi lascio andare che se avete altre lezioni dovete poter andare giustamente e a domani ok allora waiting waiting